Buonasera alla nostra ospite Gabriella Giglio, scrittrice al suo secondo romanzo dopo il successo di Un Anno di Noi, torna in libreria con Profumo di Gelsomino per raccontare le nuove vicende dei protagonisti Sofì e Roberto, ma non solo, lo vedremo. Buonasera Gabriella. Buonasera Fabiola, buonasera telespettatori. Sì, eccolo qua, la seconda creatura, Profumo di Gelsomino, edito da Traversi. Sono molto contenta che Sofì e Roberto siano venuti a trovarmi di nuovo e che mi abbiano raccontato della loro storia. Il libro comincia il giorno dopo esatto dove finiva Un Anno di Noi, ma è un libro che può essere letto anche da solo. Un libro che racconta la storia appunto di Sofì e Roberto, ma non solo, l'ambientazione in due città, appunto la città del Vesuvio, quindi Napoli, e il Canada. Innanzitutto perché il Canada? Il Canada per un motivo molto affettuoso. È stato l'ultimo viaggio che io ho fatto da sola con mio padre prima che finisse, molti anni fa, e quindi è una dedica d'amore. E Napoli perché è imprescindibile, non potrei avere scritto nulla senza Napoli, senza portarmela nel cuore e nella vita. Quindi c'è anche qualcosa di autobiografico in questo libro? La storia no, la storia no, ma sicuramente il romanzo sì. Ci sono tutte le cose che mi piacciono, c'è il mio modo di vedere, la famiglia, i viaggi, la nostra città e anche le scelte che una donna può fare, una donna della mia età. In questo libro, lo ricordiamo, Profumo di Gelsomino, Roberto racconta anche le sue emozioni e questo è un inedito rispetto allo scorso romanzo. Un anno di noi la voce predominante è quella di Sofia. È forse un diario della loro storia d'amore, dell'inizio della loro storia d'amore. Questa volta Roberto si è fatto spazio e Sofia gliel'ha lasciato e lui racconta le sue emozioni. È stato difficile, bello, soddisfacente mettersi nei panni delle emozioni di un uomo. E quindi praticamente Sofia comunque rimane un personaggio importante ma c'è un alternarsi di voci. C'è un alternarsi di voci con tanti altri personaggi che sgomitano anche loro per direle a loro che sono innanzitutto la coscienza di Sofia, che è la parte forse più napoletana di Sofia. E poi ci sono anche i personaggi dei fumetti, ci sono i figli perché questi personaggi hanno cinque figli e una in arrivo e quindi c'è molto. In questo romanzo si parla anche di temi importanti come la famiglia allargata, temi che ahimè viviamo quotidianamente e talvolta con molto disagio. Sì, fortunatamente loro non lo vivono con disagio, però Sofia se le è posto il problema perché a un certo momento Roberto le farà una domanda e lei si troverà a dover decidere come e che cosa scegliere e come porsi davanti al tema della famiglia allargata. Lei, e questo molto riguarda il disegno che ho scelto, il profumo di Gelsomino, lei dà una risposta piena di speranze. Per me il Gelsomino ha quel profumo, dà il senso della nostalgia e della speranza. Infatti vediamo anche la copertina Gabriella che è nera, però riquadro verde, il colore della speranza. Nelle spagine c'è sempre speranza. C'è la speranza ed è con la speranza che lei affronta il tema della famiglia allargata. Ci sarà un seguito, una terza puntata per Sofia e Roberto? Ci sarà perché è in scrittura e sarà molto diverso da questi primi due, ci saranno tanti colpi di scena perché poi loro sono diventati maturi e quindi è diventata matura anche la loro famiglia. Veniamo ad un'altra iniziativa importante perché tu hai costituito anche una fondazione, la fondazione Giglio, per ricordare la tua famiglia in qualche modo. Sì, due anni fa mia madre ha compiuto 90 anni, mio padre non c'è più da tanti anni. Allora il mio regalo è stato costituire la fondazione Enzo e lì a Giglio che prende il loro nome e che si occupa dei bambini a Napoli. Questa è una cosa che mio padre ha sempre fatto. è stato un imprenditore molto importante e lui è sempre stato una persona per bene. Si è sempre occupato dei ragazzi, dei minori. Se noi ci occupiamo dei ragazzi, noi facciamo del bene a tutti, non solo a loro ma anche a noi stessi. In questo particolare momento, la serata del 13 maggio, lunedì sera prossimo, alle 20.30 al Teatro Diana e ringrazio la famiglia Mirla. Il Teatro Diana in qualche modo l'accompagna sempre perché anche nelle presentazioni, la prima presentazione del primo romanzo fu proprio con grande successo al Teatro Diana, della famiglia Mirla e anche quest'anno si replica il copione. Per me è casa, un particolare affetto verso Lucio e Claudia Mirla ed è per me è casa. E con tutta una compagnia di personaggi importanti, da Maurizio Giovanni, a Gino Riviecio, a Cristino Donaddio, a Marco Zurzolo e altri, portiamo in scena un calidoscopo di emozioni su Napoli per raccontare quello che a Napoli si può fare in favore. Il ricavato e lo spettacolo, i biglietti si possono trovare al Diana, il ricavato e lo spettacolo servirà a portare avanti un progetto di immissione al lavoro dei ragazzi quando escono da Misida, perché non farli rientrare nella situazione precedente è il miglior modo per renderli liberi, dannogli un lavoro. Assolutamente, altrimenti inevitabilmente torneri a commettere reati. E' un'iniziativa importante, lo ricordiamo, quindi l'appuntamento è per lunedì 13 maggio 20 e 30 a Teatro Diana. Chi vuole comprare i biglietti sono ancora disponibili presso la biglietteria della Teatro Diana. E' un'iniziativa a fondo benefico e come tutte queste iniziative vanno supportate nella maniera più assoluta. Ritorniamo a parlare del libro perché decidi di... ci diamo del tu perché insomma è più semplice anche se meno professionale. Perché decidi di raccontare le avventure, le vicende di Sofia e Roberto così come nel primo libro anche nel secondo e poi abbiamo detto ci sarà probabilmente, anzi sicuramente, un terzo. Perché loro me le raccontano, perché ormai loro sono dei personaggi veri e abitano il mio cuore, la loro bambina, Lara, piccola, abita il mio cuore un po' come se fosse mia figlia. E' talmente tanto forte l'amore che loro provano tra di loro e che poi diffondono a pioggia su tutti gli altri che io non posso far altro che raccontarlo. Io trovo che sia una terapia dell'anima scrivere. Cioè fa bene, io lo faccio per me perché mi fa bene. Chi è la prima persona che legge il tuo libro appena è finito? Allora, ci sono quattro persone che lo leggono nella Durante che sono quattro amici, uomini. Uomini, quindi questo è importante. Uomini perché... Anche il loro parere conta. Anche il loro parere conta è per avere un confronto che non sia una scrittura femminile. Infatti sono molto orgogliosa che non è nella letteratura del genere ma è esposto nella narrativa italiana, nelle librerie. Poi c'è mio marito e questo secondo libro è dedicato a lui perché compiamo 25 anni di matrimonio. Ah, quindi insomma una tappa importante. Rimarrà. Rimarrà. Rimarrà una tappa importante. E quindi insomma dobbiamo prepararci al terzo libro. I tuoi figli, so che tu hai tre figli. Io ho tre figli. Leggono il tuo libro. Leggono. Allora, i maschi hanno detto mamma noi lo leggiamo quando siamo un po' più grandi perché nel libro, nel primo e anche nel secondo, essendo una coppia che si ama, ci sono anche le scene di Eros. La femmina l'ha letto e si è molto emozionata. Una mia cara amica, che è citata anche nel libro, dice che questo, il primo e il secondo, è una grande dichiarazione d'amore alla mia famiglia e ai miei figli. Perché io racconto tutto. C'è il mio amore. Non è il mio, è la storia di Sofia, però c'è l'amore che io ho per i figli. L'importante è che quando si scrive come quando si legge e come quando si esercita qualsiasi professione ci si mette cuore e passione. Questo è fondamentale, Gabriella. Assolutamente sì. Noi ti ringraziamo in bocca al lupo per lo spettacolo. Ricordiamo al Teatro Diana lunedì prossimo alle 20.30 ci saranno tanti protagonisti. E poi insomma non dimenticate di comprare il libro edito da Treves, Profumo di Gelsomino, che troverete naturalmente in tutte le librerie. Noi allora ci diamo appuntamento al prossimo libro. Dunque buonasera Gabriella, noi proseguiamo con il nostro telegiornale e vediamo insieme questo servizio.